gli zoccoli il vecchio parruco biascicava le ultime parole della predica sulle cuffie bianche delle contadine e sui capelli ispidi e impomatati dei contadini i grandi panieri delle donne di fattoria venute da lontano a sentire la messa erano posati in terra accanto a loro e la pesante afa della giornata di luglio faceva esalare da tutta quella gente un odore di salvatico un afrore pecoreccio il canto dei galli entrava dal portale spalancato insieme coi mugiti delle vacche accovacciate in un campo vicino ogni tanto uno spuffo d'aria pregno di odori campestri si precipitava sotto il portale e sollevando al passaggio i lunghi nastri dei cappelli di paglia faceva tremolare sull'altare le fiammelle palli dei sui ceri secondo la volontà di dio e così sia esclamò il sacerdote dopo un momento di silenzio prese un libro e cominciò a fare alle sue pecorelle come tutte le settimane le solite prediche riguardo alle faccende intime del paese era un vecchietto coi capelli bianchi che amministrava la parrocchia da 40 anni e si serviva della predica per comunicare familiarmente con la sua gente diceva raccomando alle vostre preghiere Desiree Valen che è molto malato e anche la pomel che tarda a rimettersi dal parto non gli veniva in mente nient'altro cercò dei foglietti infilati nel breviario ne trovò due e seguitò i giovanotti e le ragazze non devono andare al cimitero di sera come fanno ora altrimenti dovrò avvertire le guardie campestre il signor César Omon cerca una ragazza onesta come serva dopo qualche altro istante di riflessione aggiunse è tutto fratelli miei e invoco su voi la santa benedizione il nome del padre del figlio dello spirito santo e scese dal pulpito per finire la messa quando i malandè intornarono nella loro casetta l'ultima della frazione della sablier sulla strada di Forvì il padre un vecchio contadino basso secco e rugoso si sedette a tavola e mentre la moglie staccava il paiuolo e la figlia Adelaide cavava dalla credenza piatti e bicchieri disse forse andrebbe bene per quel posto da compare a Mont dato che è vedovo che non va d'accordo con la nuora che è solo perché ha quattrini forse si farebbe bene a mandarsi Adelaide la moglie posò sulla tavola un paiuolo annerito levò il coperchio e mentre il vapore della minestra saturo di puzzo di cavoli saliva al soffitto si fermò a pensare l'uomo aggiunse roba ne ha di sicuro ma bisognerebbe essere un po' svegli e Adelaide dorme in piedi allora la donna disse potremmo provare lo stesso e volgendosi verso la figlia una ragazzona dall'aria ebete con le guance paffute e rosse come la buccia delle mele esclamò hai capito stupidona va a presentarti come serva da compare a Mont e fai tutto quello che ti ordina la ragazza si mise a ridere scioccamente e non rispose poi tutti e tre ripresero a mangiare dopo dieci minuti il padre continuò senti quel che ti dico a filbola e cerca di capire bene con calma e con minuzza le espose tutta una serie di comportamenti prevedendo i minimi particolari preparandola alla conquista dell'anziano vedovo in disaccordo con la famiglia la madre aveva smesso di mangiare per ascoltare e stava con la forchetta in aria guardando ora il marito ora la figlia seguendo la lezione con attenzione concentrata e silenziosa Adelaide non si muoveva con lo sguardo in arte e confuso docile e debete quando ebbero finito di mangiare la madre le fece mettere la cuffia e si avviarono insieme per andare dal signor César Omon questi abitava in una specie di villetta di mattoni addossata alle costruzioni agricole della fattoria si era ritirato dalla gestione diretta e viveva di rendita aveva circa 55 anni era corpulento gioviale e burbero come lo sono le persone ricche rideva e urlava da spaccare le orecchie beveva sidro e acquavite a bicchieri colmi e passava per essere ancora arzillo nonostante l'età gli piaceva passeggiare nei campi con le mani dietro la schiena affondando gli zoccoli di legno nella terra grassa sorvegliando la coltura del grano o la fioritura della colza con l'occhio dell'intenditore che se la gode ma standone fuori di lui dicevano è un paccioccone che non si alza bene tutti i giorni ricevette le due donne con la pancia sulla tavola mentre finiva il caffè rovesciandosi indietro verso la spalliera chiese che volete parlò la madre vengo a proporvi per serva nostra figlia Delaide secondo quel che ha detto stamani il signor parroco Comon squadrò la ragazza ed improvviso quanti anni ha questa marca Antonia ventunanni a San Michele signor Romon bene le darò quindici franchi al mese e il companatico l'aspetto domani per farmi la zuppa della mattina e congedò le due donne Adelaide prese servizio il giorno seguente e si mise a lavorare sodo come faceva in casa dei genitori verso le nove mentre stava lavando i vetri della cucina il signor Romon la chiamò Adelaide e la accorse eccomi il signor padrone quando gli fu davanti con le mani rosse e ciondolanti l'occhio inebetito le disse dammi a sentire mettiamo bene le cose in chiaro fra di noi tu sei la serva e nient'altro capito? non pensare che mischieremo gli zoccoli sì signor padrone ognuno ha il suo posto figliuola tu in cucina io in salotto a parte questo tutto uguale fratemi d'accordo? sì signor padrone benissimo torna al lavoro e lei si rimise alle sue faccende a mezzogiorno apparecchiò per il disinare del padrone nel tinello con la carta alle pareti e quando la minestra fu in tavola andò a chiamare il signor Romon è servito il signor padrone lui entrò si sedette si guardò intorno spiegò il tovagliolo esitò un attimo poi con voce tonante Adelaide e arrivò spaventata lui urlò come se volesse massacrarla e allora per Dio dov'è il tuo posto? ma padrone urlava non mi piace mangiare da solo per Dio vatti a mettere là se no quella è la porta corri a prendere il piatto e il bicchiere atterrita lei portò le stoviglie balbettando eccomi il signor padrone e si sedette di fronte a lui diventò subito cordiale trincava dava pugni sulla tavola raccontava storielle che lei ascoltava a occhi bassi senza rischiarsi a pronunciare una parola ogni tanto lei si alzava per andare a prendere il pane il sidro i piatti portando il caffè ne posò una sola tazza davanti a lui che si arrabbiò di nuovo e grugnì beh e per te? io non lo bevo signor padrone perché non lo bevi? perché non mi piace? allora pregò incollerito un'altra volta e a me non piace bere il caffè da solo per Dio se non ti va di berlo quella è la porta per Dio vatti a prendere una tazza e sbrigati lei andò a prendere la tazza si sedette assaggiò il liquido nero fece una smorfia ma sotto lo sguardo furibondo del padrone lo mandò giù tutto poi dovette bere il primo bicchierino di acquavite ammazza caffè il secondo dell'ammazza caffè e il terzo del calcio nel sedere infine il signor Omon la congedò ora va a lavare i piatti sei una brava ragazza la cena fu la stessa cosa poi dovette fare la partita a domino e infine lui la mandò a letto va a dormire io salgo tra poco lei salì nella sua stanza una soffitta sotto il tetto recitò la preghiera si spogliò e si infilò sotto le lenzuola ma subito schizzò su atterrita un urlo furioso faceva tremare la casa Adelaide lei aprì la porta e rispose dalla soffitta eccomi signor padrone dove sei? ma sono a letto signor padrone vuoi scendere per Dio? grida lui non mi piace dormire solo per Dio se non ti va quella è la porta per Dio da sopra lei rispose sgomenta cercando la candela eccomi signor padrone lui udì i suoi zoccoletti aperti battere sulla scala d'abete e quando fu agli ultimi scalini la prese per un braccio e dopo che ebbe lasciato davanti alla porta le sue strette scarpe di legno accanto agli enormi zoccoli padronali la spinse in camera brontolando fa presto fa presto per Dio! e lei senza più sapere che dicesse non faceva che ripetere eccomi signor padrone eccomi! sei mesi dopo una domenica che era andata a trovare i genitori suo padre la scrutò con attenzione e le chiese non sarai mica incinta? lei si guardò la panza inebetita ripetendo ma no non credo allora lui volle sapere tutto e l'interrogò dimmi non ve mica capitato qualche sera di mescolare gli zoccoli? sì li abbiamo mescolati la prima sera e poi tutte le altre allora sei piena come una botte lei scoppiò in singhiozze e ripeteva che ne sapevo io che ne sapevo il vecchio malandè la osservava con gli occhi lustri il viso soddisfatto chiese cos'è che non sapevi? fra le lacrime lei disse che ne sapevo io che si fa in questo modo per i bambini la madre stava entrando l'uomo le disse senza collera spiccando bene le parole ecco è già gravida la donna si adirò ribellandosi distinto ingiuriando a gran voce la figlia piangente chiamandola zotica e puttana il vecchio la fece star zitta e mentre prendeva il berretto per andare a parlare d'affari con il comparse Sarromont disse è persino più scema di quanto pensassi non sapeva nemmeno quel che faceva questa gnoccolona alla predica della domenica seguente il vecchio curato annunciò le nozze del signor onor Cesar Omon con Celeste Adelaide Malandenne grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti